Grazie a tutti. Siamo decisamente al di sopra dello zero un po' ovunque, solo in montagna, temperature negative. Se i valori diurni che al centro-sud possono anche toccare e superare i 15 gradi, punte di 17 nelle isole maggiori a gennaio. Ora entriamo nel dettaglio con la previsione al nord, situazione tranquilla ma con cielo grigio, soprattutto in pianura padana, in Liguria e sull'Alto Adriatico. E nella Liguria centrale non escludiamo anche qualche goccia di pioggia, comunque precipitazioni sporadiche occasionali. Tempo buono nell'Italia centrale, qualche nuvola in più in Toscana, nelle Marche, comunque nubi di poco conto, per il resto solo qualche velatura di passaggio. E infine anche nel sud Italia, tempo nel complesso bello, anche qui non mancherà qualche velatura però, le zone di sereno saranno veramente ampie. Però attenzione perché settimana prossima si volta pagina, torneranno le piogge anche abbondanti e tra una decina di giorni potrebbe tornare anche la neve fino a quote molto basse al nord. Per ogni aggiornamento seguiteci su trebimeteo.com